Mamma mia Italia, questo è per voi. Speaky explica ai vini più rari italiani, questo è Bonarda da Nord Italia 2015. Avete visto quanti gradi? 15. È molto raro. Come aprire? Suggesto di tagliare le capi. Ok, più, usate l'ultimo capo e usate un cilindro perché è un po' spazio. Bonarda. E ora siamo pronti per aprire. È quasi un champagne rosso. Mamma mia, guardate qui. Ti piace il colore? Guardate le balle. Mamma mia, Bonarda.